caro angelo custode qualunque cosa a un certo punto può sembrarci una prigione la casa in cui viviamo da anni la colla in cui stiamo diventando grande la sedia su cui siamo costretti e anche se volessimo scappare via da certe cose non è possibile fuggire papà ciao dimmi cosa? cose come la nostra famiglia che ne dite? all'esame ci pensi Dio che a divertirmi ci penso io bella ma si può scrivere Dio su una maglietta? di sicuro non in una maglietta brutta come questa dell'esame parla? è per la festa dei cento giorni della fine della scuola e tesoro senti se vuoi ti diamo una mano noi con quelli davvero? sì grazie che carino ma che cos'è la festa dei cento giorni? davvero non lo sai? io ho fatto il liceo solo per quello è la festa dell'immaturità cento giorni prima dell'esame di maturità noi ad esempio abbiamo fatto un falò il bagno in mare vestiti io ho fatto il falò dei vestiti e poi il bagno in mare ho capito anche io ho fatto una cosa molto carina era un pellegrinaggio con le suore cara tu sei la dimostrazione che le suore sai tu come crescere una ragazza nico senti il preside ha chiesto a te e maria di occuparvi di tutta l'organizzazione e anche la supervisione sarà una festa aperta a tutti gli studenti lo farei volentieri è che arriva una cliente stamattina e mi butto subito a lavorare sul caso mi dispiace non guardi me oggi è l'open house con tutti i papabili acquirenti del convento e sono molti? moltissimi bene e maria pensi tu alla festa? no ma quale festa? non c'è proprio niente da festeggiare domani arriva mio padre fine nicola oddio è tanto tempo che non lo vedo come sono contenta beh però puoi occuparti dell'organizzazione no 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 senta io ho da fare mi devo occupare di mio padre deve essere tutto perfetto sì? tutto perfetto chiaro? tutto sì certo tutto perfetto adesso come faccio? ma le prigioni i peggiori? sono quelle che non sembrano nemmeno prigioni sembrano posti accoglienti fatti per proteggerci Carolina sei pronta? sì mamma cos'è stato? era la sveglia è il segnale che stanno per finire le batterie sbrigati che è tardi prigioni che non sono fuori ma dentro di noi da quelle prigioni non è mai possibile uscire da soli che non è mai possibile uscire da soli ogni domanda ogni domanda ogni domanda ogni domanda ogni domanda che possiamo share lezie 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 Il padre di Maria è un professore di astrofisica. È sempre stato un genio, ma ha sempre pensato esclusivamente allo suo lavoro. E quando mia niputa è morta, la mamma di Maria, le cose non sono molto cambiate. Maria ha cercato di avere un contatto con lui, ma l'unico contatto che ha trovato è stata la scienza. Sì. E' proprio così. Sei stata molto gentile con Azzurra. Se vuoi ti diamo una mano noi. Ah, ecco, mi pareva. Va bene così. E pensi che questo basti? No. Sor Angela? Simona! Ciao! Quanto tempo che non ci vedevamo, eh? Ciao, Carolina. Come stai? Bene, grazie. Salve, Sor Costanza. Salve. La vuoi un po' di cioccolata? Meglio di no, ne fa male. Lei è Ambra, la mia assistente. Piacere, Ambra. Anche tu ti occupi di finanza? Io mi occupo di Simona. Ambra ci sta dando una grande mano, vero tesoro? Ci sono Silvia e Daniela? Oh, certo che ci sono. Poi andiamo a chiamarli. Bene, così intanto noi parliamo con l'avvocato Santo Paolo. Allora, sei tu la cliente che stavo aspettando? Bene, vi accompagno intanto di là. E ci pensa lei a questa meraviglia? Certo. Grazie. Grazie. Adesso la voglio un po' di cioccolata. Andiamo, vieni. Ecco qua. Mamma mia, ma quanti broccoli ha preso? Suor Angela, qui ci sono broccoli per l'eternità. Tragiamo un po' di cioccolata, la mangia un dio.